dunque in continuità con quello che facevamo una volta scorsa dobbiamo terminare gli ultimi tre punti di questo esercizio che avevamo iniziato insieme che ci aiutava a fare un pochino di ginnastica tra l'uso dei vari metodi degli oggetti e così via allora anche qua gli ultimi punti sono un po' un pretesto per vedere alcune tecniche, alcune trappole che potrebbero esserci allora il punto 7 ci chiede creare un libretto migliorato in cui ciascun voto maggiore o uguale di 18 viene incrementato di un punto e ciascun voto maggiore o uguale di 24 viene incrementato di due punti vabbè questo è semplice nel senso che basta prendere i voti e li modifichi pur senza superare il 30 e va bene ciò a cui dobbiamo fare attenzione è il resto della frase che dice tenere separati i due libretti e stamparli entrambi ok? allora c'è una prima parte facile che è stamparli noi in realtà non abbiamo ancora implementato un metodo per stampare il libretto vabbè lo possiamo fare non è difficile semplicemente non abbiamo ancora avuto bisogno siamo così nei punti precedenti e poi c'è questo tenere separati i due libretti che ci sta dicendo guarda tu non devi modificare quei voti ma devi creare un libretto diverso che è quello che magari porti a fare ai genitori che ha i voti più belli lo tieni separato rispetto a quello precedente quindi in qualche modo ci sta chiedendo guarda tu questo metodo che migliora i voti non migliora i voti del libretto ma crea un libretto migliorato che è quello che c'è scritto qua creare un libretto migliorato quindi crea un libretto nuovo e separato da quello esistente ok? quindi sarà un metodo che in qualche modo restituisce come valore di ritorno un nuovo oggetto di tipo libretto perché io devo avere poi due oggetti libretti libretto base e libretto migliorato il secondo lo costruisco a partire dal primo quindi potrebbe essere un metodo della classe libretto che che essa stessa crea un oggetto e lo popola in qualche modo ok? lo preferisco pensare come un metodo della classe libretto una sorta di metodo di copia travisata normalmente tanti oggetti hanno gli oggetti standard hanno un metodo copy che ti danno ti creano e restituiscono un nuovo oggetto che sia inizializzato come copia dell'esistente questo è una sorta di copy travisata perché non ti dà una copia fedele ma ti dà una copia modificata è un tipo di di approccio che in gergo si chiama metodi di factory è un oggetto che contiene dei metodi che fabbricano che fabbricano altre istanze dello stesso tipo di oggetto perché? perché col costruttore semplice se io facessi libretto migliorato uguale al libretto il costruttore non sa che cosa deve farci il costruttore uno se ne è tipicamente lo usiamo per costruire un oggetto vuoto se vogliamo costruire oggetti con qualche tra virgolette intelligenza in più e quest'intelligente deve stare in un metodo della classe che sa che cosa fare quindi ci troveremo spesso a avere con dei metodi che costruiscono oggetti se l'oggetto non ce lo costruiamo noi semplicemente chiamando il costruttore perché ha bisogno di informazioni in più e allora ci sarà un oggetto che ha un metodo che costruisce altri oggetti della stessa classe o di classi diverse questo dipende ok? questo è un pattern che si trova abbastanza frequentemente è molto frequente il non crearsi noi direttamente gli oggetti ma farli creare da qualche metodo che ne sa di più perché magari questa creazione deve essere più elaborata il metodo copy è un metodo di questo genere se noi facciamo list.copy ti fa una nuova lista che copia con l'attuale ecco questo qui è un esempio di un metodo di fabbrica di factory un metodo che costruiscono nuovi oggetti con cui poi puoi lavorare allora qui in questo modo nel nostro esercizietto stiamo decidendo che all'interno della classe libretto del modulo libretto vogliamo quindi aggiungere un nuovo metodo aspetta un attimo questa scusate stavo guardando il file sbagliato stavo guardando il file iniziale non quello in cui l'avevamo già lavorato la volta scorsa quindi noi abbiamo adesso la nostra classe il modulo voto non il modulo libretto che ha la classe libretto che contiene già una serie di metodi la pen la media i metodi define che abbiamo fatto la volta scorsa e aggiungiamo a questo punto in fondo un altro metodo possiamo chiamarlo crea migliorato che cosa fa questo metodo? scriviamolo subito crea una copia del libretto e migliora i voti in esso presente presenti ok quindi noi possiamo seguendo seguendo quest'idea creare un libretto nuovo come un nuovo oggetto della classe libretto ricordiamo che il libretto il costruttore della classe libretto non ha argomenti se ricordo bene andiamo a vedere non ha argomenti perché il costruttore l'init costruisce un oggetto senza voti e dopodiché dobbiamo mettere dentro il nuovo libretto popolarlo con i voti ok immaginiamo prima di copiarci i voti tra gli e quali poi li modifichiamo ok quindi uno potrebbe dire nuovo punto underscore voti uguale self punto underscore voti punto copy allora ragioniamo su cosa succede se scrivo questo allora cos'è copy? è il metodo copy della lista self punto voti è una lista no? le liste hanno un metodo copy lo posso scrivere così lo posso scrivere uguale che ne so ad esempio self punto voti copia uno slice dal primo all'ultimo elemento no? estrai un sotto insieme che vanno dal primo all'ultimo elemento degli elementi presenti nella lista quindi una slice completa senza valore iniziale senza valore finale quindi per default il primo e l'ultimo per una lista nuova no? sono alcuni modi diversi di scrivere la stessa cosa è uguale no? forse il metodo copy è un pochino più chiaro ma sono esattamente identiche queste due istruzioni allora questa è già una scelta che ho fatto di dire guarda io i voti del nuovo libretto li vado a prendere maneggiando direttamente la variabile voti l'attributo voti perché se volessi fare il pulito dovrei dire no ma ho un metodo append ho una classe voto quindi creo tanti oggetti voto li metto dentro e dovrei se questa istruzione fosse al di fuori della classe libretto sarebbe brutto andare a pescare il valore no? o modificare il valore di un attributo di una classe da fuori però qua siamo dentro la classe libretto ci possiamo anche permettere di andare a manipolare direttamente le proprietà infatti ricordate che la volta scorsa quando provavamo ad accedere a una proprietà protetta quella che inizia con underscore PyCharm ci diceva fai attenzione che stai usando una proprietà che diciamo il progettista di quella classe non vorrebbe che tu toccassi qui non c'è nessun warning perché sono dentro la classe libretto anche se nuovo è un oggetto diverso da self è comunque un oggetto della stessa classe lo stesso succedeva anche in Java un attributo private è accessibile da qualunque metodo e su qualunque istanza della stessa classe quindi qua fin qua non c'è nessun problema dopodiché dobbiamo migliorare i voti questa è la cosa più semplice nel senso che questo punto posso iterare for v in self non in self nuovo punto voti faccio cose quindi vado a vedere il punteggio cosa mi dice se il punteggio è compreso tra 18 e 24 somma un punto quindi if v punto punteggio compreso tra 18 e 23 allora incremento di 1 v punto punteggio è uguale 1 else se è lì se il punteggio è compreso tra 24 e quanto dunque io voglio sommare due punti mi dice somma due punti se è maggiore di 24 però non devi sforare il 30 quindi il massimo voto che posso pescare è il 28 ok il 29 al 29 dovrò aggiungere un punto solo non 2 quindi devo trattarlo come caso particolare oppure ci metto un max insomma diciamo minore o uguale a 29 28 perdon allora via punto punteggio l'incremento di 2 else elif v punto punteggio posso uguale a 29 allora il punteggio è uguale a 30 e basta se ho già 30 cosa vuoi aumentare? non c'è nulla a aumentare vabbè questa questa v è un riferimento a un oggetto che sta dentro il mio libretto nuovo quindi non sto toccando il libretto esistente il libretto esistente ne ho fatto una copia e poi lavoro sulla copia e alla fine dopo che ho modificato questo restituirò il libretto nuovo vediamo un po' se sta cosa funziona per vedere se funziona dobbiamo aggiungere ancora l'altro metodo per stampare il libretto perché altrimenti non riusciamo a vederlo perché oppure lo guardiamo in debug lo guardiamo in debug se vogliamo allora nella nostra classe testlibretto io ho aggiunto un po' di roba qua per renderlo più visibile qualche voto in più potrei fare un migliorato uguale lib punto crea migliorato e vediamo e poi li confrontiamo abbiamo il libretto di partenza lib e abbiamo il libretto migliorato qui mettiamoci una print qualunque per poterci mettere un breakpoint qua così faccio eseguire il programma fino a questo punto e in debug andiamo a vedere la differenza tra il libretto di partenza e il libretto migliorato ok? poi implementeremo un metodo di print per carità quindi io ho fatto eseguire questo programma in modalità debug lui si è fermato su questa print ma il mio scopo vero era quello di avere a questo punto le variabili da ispezionare qua nella finestra di debug allora ho la classe lib che contiene l'attributo voti che contiene questi voti qua e poi ho la classe migliorato che contiene l'attributo voti con questi voti qua qui noi vediamo che ad esempio di algebra lineare dove avevamo inserito 24 come voto nel libretto migliorato algebra lineare mi compare qua con punteggio 26 due punti perché è superiore a 24 fisica 1 che è al cui avevo inserito 21 fisica 1 ha 22 quindi l'ha incrementato di 1 cosa c'era? l'informatica al cui avevo già 30 è rimasto 30 tra l'altro è un 30 lode è rimasto così anche il 30 senza lode è rimasto così quindi il libretto nuovo migliorato sembra effettivamente che faccia ciò che deve adesso però andiamo a vedere il libretto di partenza fisica 1 c'è 22 non 21 algebra lineare c'è 26 non 24 aspetta abbiamo fatto abbiamo fatto qualche casino perché questo era il libretto di partenza questo libretto migliorato e sembra che i voti del libretto di partenza siano stati anche modificati analisi 1 avevo 18 no dove è analisi 1 qua era questo qui è diventato ah si perché c'era uno con l'analisi uno con la ho sommato un po' di nomi rispetto a quelli di prima che avevamo e c'è un 19 ma sul libretto di partenza ma pure io sono sicuro di non aver modificato il libretto di partenza ne abbiamo fatto una copia qua e abbiamo modificato i voti del nuovo della copia cosa stiamo sbagliando stiamo sbagliando il fatto che abbiamo fatto una copia dell'oggetto libretto ma non abbiamo fatto delle copie degli oggetti vuoto ok ragioniamo se vogliamo ragionare direttamente in termini di liste anziché di oggetti perché tanto alla fine l'operazione che stiamo facendo è su una lista noi avevamo una lista che conteneva tanti oggetti di tipo vuoto abbiamo fatto una copia della lista e quindi abbiamo un oggetto lista diverso da prima l'operazione di copia però cosa fa? crea come elementi di questa lista gli stessi valori che avevano una lista di precedenza di partenza gli stessi valori vuol dire che nuovo di zero ok cioè scusate nuovo punto voti di zero scriviamolo qua nuovo punto voti di zero e self punto voti di zero a seguito della copia sono lo stesso oggetto sono due riferimenti due nomi diversi dello stesso oggetto abbiamo creato una nuova lista che contiene come elementi il contenuto della lista precedente ma qual è il contenuto della lista? sono i riferimenti ricordiamoci sempre della differenza tra variabile cioè riferimento e oggetto una lista contiene dei riferimenti i riferimenti ha oggetti vuoto che stanno là quando io copio la lista copio i riferimenti e gli oggetti vuoto con i dieci voti che ho inserito rimangono tali e quali semplicemente adesso saranno accessibili in due modi quindi nuovo punto voti di zero non è una copia di self punto voti di zero ma è lo stesso oggetto e quindi a questo punto non mi devo stupire che quando io vado a modificare un campo di quell'oggetto essendo l'oggetto unico la modifica si vede nei due libretti ok quindi quello che devo fare facendo attenzione è non solamente creare un nuovo libretto ma creare una copia dei voti in modo che questi voti siano poi nascono uguali ma siano oggetti indipendenti e quindi possono essere modificati indipendentemente l'uno dall'altro allora voi mi dite ma allora cosa è servito a fare sta copia quali sono le operazioni che aver fatto questa copia mi permette allora abbiamo visto che fare la copia non serve per rendere distinti gli oggetti contenuti in essa adesso dobbiamo ancora sistemarlo ma allora cosa serve cioè quali sono le operazioni che potrei fare sulla copia e non influenzerebbero la lista originale di sicuro non le operazioni che vanno a modificare i contenuti dei voti perché abbiamo visto che sono condivisi e sono le operazioni che modificano la lista non le operazioni che modificano gli elementi contenuti nella lista sono due cose molto diverse le operazioni che modificano la lista sono quelle di aggiungere un elemento cancellare un elemento sostituire un elemento con un altro che non significa modificarlo ma significa voti di 7 uguale nuovo voto quindi rimpiace un elemento con uno nuovo solo devo mettere o fare un sorting in ordine cioè le operazioni che modificano la lista sono quelle che cambiano l'insieme dei valori contenuti nella lista stessa cioè l'insieme dei riferimenti append remove assegnazione sort questo cambia la lista tra l'altro tutte queste operazioni che ho citato cambiano la lista senza cambiare i voti senza cambiare i contenuti quindi abbiamo a che fare quando lo abbiamo con le collection con due oggetti il contenitore e i contenuti dico plurale perché possono essere di più gli oggetti contenuti e sono oggetti distinti ciascuno con la propria vita ok quindi finora ho fatto una coppia del contenitore bene perché a questo punto se io facessi andiamo a vederlo se io facessi un append adesso su un libretto migliorato oppure sul libretto di partenza lib.append di un voto che è la tesi finale per dire 3 non è un voto ma fa lo stesso no facciamo finta mettiamo 0 e se rifacessi questa stessa operazione con questo append aspetta cosa ho sbagliato qua ah si c'è un po' che avevo modificato allora current file test libretto run non run debug ce la farò se c'è il bottone giusto ecco allora io cosa ho fatto adesso rispetto primo ho provato a fare un append sul libretto di partenza infatti adesso se vado a vedere il libretto di partenza ho 9 voti anziché 8 e l'ultimo è la tesi sul libretto migliorato questa tesi non c'è list 8 e quindi in fondo la tesi non c'è ha solo continua ad avere 8 elementi questo è un esempio come l'append è un'operazione che abbiamo fatto sulla lista dei voti non sui singoli voti la lista dei voti del libretto migliorato è una copia separata della lista del primo libretto quindi sono indipendenti se cancellassi un voto se riordinassi i voti questi qui sono indipendenti quando però vado a modificare la proprietà di un oggetto questi oggetti in questo modo sono condivisi sono ancora condivisi e quindi non lo posso fare e allora per farlo cosa posso fare per rendere effettivamente indipendenti questi due libretti e devo creare un libretto nuovo e nella lista voti non fare semplicemente una copia dei riferimenti ma fare creare nuovi oggetti voto da mettere dentro quindi crea una nuova lista che contenga una copia dei voti ad esempio a questo punto potremmo aggiungere chi è che fa la copia del voto non dovrei fare questo ma dovrei dire in questa lista voti andiamo ad aggiungere tanti oggetti voto identici a quelli che avevo prima quindi iterare sulla lista vecchia per ciascuno a creare una copia del suo oggetto per creare una copia dell'oggetto voto ovviamente si invicherà chiamare il costruttore potrei fare una cosa di questo genere allora andiamo a fare una lista nuovo libretto è così dopodiché vado a iterare nei voti vecchi e poi invece aggiungo nuovo punto voti punto append una copia del voto vecchio qui non v quello che faceva prima la copia era questo di fatto prendeva v dalla lista vecchia e lo aggiungeva alla lista nuova ma prendere v e aggiungere la lista nuova significa aggiungere un riferimento a un oggetto che già c'è dentro la copia c'era questo ovviamente va inizializzato nuovo punto voti uguale vista vuota ma no scusate questo ci da il costruttore non mi serve questo è che fa la copia a noi non piace questo perché vorremmo creare una copia di v allora qui potremmo scrivere voto tra parentesi crea un nuovo oggetto voto che abbia gli stessi dati del precedente quindi il primo è l'esame quindi sarà v punto esame il secondo sarà il cfu il terzo sarà punteggio poi abbiamo la lode e poi abbiamo la data giusto fatemi tornare al costruttore di voti esame cfu punteggio lode data esatto quindi crea un nuovo libretto il cui contenuto siano nuovi oggetti tutto per tutto uguali o meglio il cui contenuto il valore di cui attributi è tutto per tutto uguale a quello degli oggetti precedenti e allora a questo punto veramente non ho più nessun legame col libretto di partenza quasi perché anche questo giochino qui va a copiare dei riferimenti cioè io creerò un nuovo oggetto voto nella cui attributo esame copio il riferimento che c'era nell'attributo esame del voto precedente dell'altro libretto quindi questa è una stringa la stringa che rappresenta il nome dell'esame è una sola non la sto copiando la sto condividendo dopodiché chi se frega perché le stringhe sono un tipo di dato immutabile e quindi se la condivido o se ne faccio una copia non me ne potrò mai accorgere perché non posso in ogni caso modificarla questi problemi di condivisione nascono solamente nel momento in cui io devo modificare qualche cosa cf1 è un intero anche lì i numeri non sono modificabili sono immutabili punteggio un intero la load è un booleano la data per ora è una stringa i tipi primitivi intero booleano e stringa sono immutabili e quindi non serve farne una copia va benissimo condividere ciò che c'è tanto non è modificabile ma se fossero a loro volta oggetti modificabili mutabili allora dovremmo chiederci devo fare una copia anche di questi cioè fare un'operazione che fa il metodo copy è quello che chiamiamo shallow copy una copia superficiale copia il contenitore e riusa il contenuto qui invece per avere un libretto indipendente dobbiamo fare una copia profonda una deep copy esiste anche un metodo deep copy nella libreria standard quindi tutte queste cose che stiamo scrivendo bastava chiamare il metodo copy punto deep copy e avrebbe fatto lui il lavoro però dobbiamo prima capirlo cosa succede quindi questo se non ho sbagliato dovrebbe funzionare prendiamo test libretto facciamo run non facciamo run facciamo debug e a questo punto vediamo che il libretto migliorato verifichiamo che sia corretto contiene 8 voti abbiamo cambiato completamente il modo di costruirlo adesso non c'è più il copy di prima quindi andiamo a vedere che sia giusto direi di sì ma soprattutto il libretto di partenza contiene ancora i voti vecchi quindi c'è il 18 c'è il 21 c'è il 24 perché adesso realmente quando andiamo a modificare il punteggio di un oggetto V che sta dentro nuovo punto voti questo oggetto V non è lo stesso oggetto che c'era nel libretto precedente adesso qua mi faceva vedere no è lo stesso ok adesso facciamo ancora un piccolo passo avanti questa scrittura messa qua mi dà un pelino di fastidio perché è l'unico punto in cui la classe del libretto deve conoscere esattamente tutti gli attributi del voto cioè già per carità altri metodi stanno usando gli attributi no per per vedere se il voto maggiore di 20 come si chiama filtrare i voti maggiore di 25 eccetera cercare per nome cercare per voto ok però usavano degli attributi non tutti usavano quelli che gli servivano nella logica del duck typing se io ho il metodo es conflitto questo metodo funziona purché ci sia l'attributo voti no scusate questo è l'attributo di libretto è chiaro che c'è è mio ma dell'oggetto voto mi basta che ci sia l'attributo esame l'attributo di punteggio e l'attributo lode quelli ci devono essere affinché a questo metodo funzioni ci devono essere dove? negli oggetti che sono messi dentro underscore voti se domani rivedessimo l'oggetto voti aggiungendo degli attributi aggiungendo delle nuove cose questo metodo continua a funzionare ok mentre invece quest'altro metodo non funziona più se io aggiungo una nuova proprietà al voto e questo costruttore fallisce perché dovrei passargli un parametro in più allora qui il duct typing fallisce non è più vero che questo libretto ha bisogno solamente gli attributi che usa specificamente qui mi aspetterei veramente che questo metodo crea migliorato avesse bisogno solamente della certezza che l'oggetto voto abbia la proprietà punteggio è l'unico con cui lavoro poi però sono obbligato qua per creare un nuovo oggetto voto a conoscere tutti gli altri attributi allora cosa sto dicendo sto dicendo che costruire una coppia di un oggetto è una responsabilità dell'oggetto stesso questa roba qua non deve essere qua dentro deve essere dentro l'oggetto voto io taglio questo e qua scrivo v.copy e aggiungo nell'oggetto voto un metodo copy che faccia esattamente questa roba qua quindi qui ero dentro libretto torno dentro voto che finora non faceva quasi niente e gli definiamo copy di self e poi non è v ovviamente ma è self ok allora è ovvio che l'oggetto voto deve sapere quali sono i suoi stessi attributi qui non ho problemi non mi pongo problemi no? se aggiungo un attributo ovviamente dovrò aggiungere anche il costruttore di copia questo è un altro metodo diciamo di factory di nuovo costruisce una coppia di un oggetto costruisce un nuovo oggetto partendo da un esistente la factory più semplice ne faccio una copia quindi il costruttore viene chiamato dentro il metodo non lo chiamo io da fuori in questo caso quindi all'oggetto voto non costa niente sapere come creare una copia di se stesso tra l'altro a questo punto l'oggetto voto sa quali dei propri attributi per dire sono immutabili e quindi li può copiare per riferimento e quali invece possono essere mutabili e quindi deve a sua volta farne una copia ma questa conoscenza sta nell'oggetto stesso perché sa che tipo di attributo ho e invece la classe libretto usa e dipende solo dall'attributo punteggio il metodo che era migliorato e poi dal fatto che chiaramente l'oggetto voto sia capace da solo di farsi una copia questo è un po' il giochino che si fa con i metodi di factory creo delego l'operazione di creare la copia la copia migliorata eccetera all'oggetto che sa come farlo e così non ho bisogno di conoscenza da fuori di quell'oggetto per effettuare quell'operazione lì oltre al fatto che il metodo copy poi lo posso usare in tanti altri contesti per carità ok se siamo d'accordo su questo vediamo cosa ci chiede ancora dopo vabbè c'è quello di stamparli allora proviamo a stamparli per stamparli possiamo aggiungere ad esempio sempre nella classe libretto un metodo stampa libretto.print def stampa di self cosa ha fatto questo io potrei stampare magari all'inizio potrei dire ah i tot voti poi faccio ancora i voti e poi sottostampo la media tanto per dirne uno ok quindi potrei dire print hai un certo numero di voti lang di self punto voti voti dopodiché stampiamo i voti dirò bene questo ciclo for print v e poi print la media vale self punto get media ce l'avevamo già il metodo media se vi ricordate mettiamola magari con due cifre decimali quindi adesso nel test libretto anziché fare questa print a vuoto che avevamo messo solamente per fermare il debugger possiamo effettivamente dire lib punto stampa e migliorato punto stampa libretto originario e libretto migliorato migliorato con la L quindi questa volta possiamo fare un run e nell'output abbiamo libretto originario ai 9 voti e mi ristampa la media vale 22,89 libretto migliorato ai 8 voti e la media vale 26,75 l'ho fatta giusta la media teneva conto dei crediti mi sembra che sia cambiata troppo la media dove era è sbagliatissima questa roba qua perché fa la media dei numeri senza tenere conto dei crediti andrebbe corretta decisamente lo facciamo dopo semplicemente questi punteggi non sono il punteggio ma la moltiplicazione di punteggio per credito di cui faccio la somma alla fine e divido per la somma dei crediti ricordiamoci di farlo ok ah però ok non è vero perché la stampa è tutto tranne che user friendly perché nessun utente si aspetterebbe di vedere un voto stampato così perché viene stampato così perché l'oggetto voto che è un oggetto molto semplice perché l'abbiamo costruito con una data class in questo momento non ha un metodo str che decida come deve essere visualizzato quel voto non ha un metodo str ha solamente un metodo rep quindi rappresentazione per il programmatore che viene creato automaticamente dalla data class altrimenti non avrebbe nemmeno quello allora il rep va benissimo in debug ci sta bene però per una stampa decente tanto vale usare un metodo stringa def e così lo stampiamo in modo decente return e decidiamo come stamparlo possiamo ad esempio un punto scrivere se è il punto esame tra parentesi i cfu due punti vuoto c'è la tua scuola il punteggio con la load eccetera ma abbiamo già il metodo che lo fa quindi self appunto si chiamava str punteggio il e poi la data di nuovo la formattazione la faccio dentro l'oggetto vuoto non la faccio dentro l'oggetto libretto eseguendo test libretto questo lo metto qua così si vede str me lo stampa in questo modo compreso il vuoto 30 l'oggetto stampato giusto dal metodo che abbiamo già fatto la volta scorsa in non è in è il dovrei scrivere il ok allora questo l'abbiamo sviscerato e ci ricorda che ogni volta che pensiamo a una copia di un oggetto dobbiamo ricordarci sempre o decidere fino a che punto voglio copiarlo e da che punto in avanti voglio condividere i contenuti poi punto 8 stampare il libretto in ordine alfabetico di esame e in ordine numerico decrescente di voto noi la stampa ce l'abbiamo ma la stampa in ordine di inserimento finora questo punto qua ci chiede di ragionare su due cose uno come fare a ordinare una lista di oggetti cioè noi conosciamo tutti sulla lista il metodo sort però fino a poche settimane fa le liste per noi contenevano sempre a loro volta liste tuple dizionari eccetera che avevano una loro logica di ordinamento predefinita qui invece abbiamo degli oggetti cosa vuol dire ordinare degli oggetti sulla base di quale criterio no tutto il discorso del comparator che avevamo in java come si fa qua qualche idea ce l'abbiamo già no questo è il primo punto il secondo punto che dobbiamo decidere come affrontare è faccio due metodi uno stampa in ordine alfabetico l'altro stampa in ordine di voto quindi sono metodi puramente di stampa oppure faccio due metodi copiando ciò che abbiamo fatto prima che creano una copia del libretto e te la restituiscono ordinata per voto e quindi poi te la puoi stampare è un altro metodo che crea una copia del libretto e te la ordina per esame e quindi poi te la puoi stampare cioè separare in due metodi diversi il discorso ordina e stampa oppure fare due metodi che ordinano e basta il libretto stesso e poi chiamo il metodo stampa che ho già sono tre alternative vanno bene tutte e tre qui non c'è spiegato sono dei ragionamenti che ci facciamo noi proviamo proviamo a esplicitarli così ce li troviamo scritti noi abbiamo un'opzione 1 fatemelo scrivere come commento così opzione 1 è quella di dire crea un metodo stampa per nome e metodo stampa per punteggio che semplicemente stampano e non modificano nulla non modificano nulla poi chiedono ordinare i voti dovranno ordinare qualcosa ma lo faranno in una copia locale l'importante è che non modifichino il libretto di partenza poi internamente è chiaro che se serve fare delle copie lo fanno non modifichano nulla degli attributi principali dell'oggetto libretto poi l'opzione 2 che abbiamo detto è un metodo crea libretto io li scrivo così non sarà magari il loro nome ma scrivo un nome lungo così mi ricorda cosa libretto crea libretto ordinato per nome ed un metodo crea libretto ordinato ordinato per voti per punteggio che creano delle copie separate sulle quali potrò chiamare il metodo stampa che ho già è quello che mi piace che ho già oppure l'opzione 3 crea un metodo ordina per nome che modifica il libretto stesso riordinando i voti e poi analogamente metodo ordina per punteggio poi userò stampa a me vengono in mente questi tre modi di farmi carico di quella specifica quello che mi piace di più francamente quello che mi piace di meno non so voi è il primo dai che porta cioè ragionare in quel modo porta una proliferazione di metodi ad hoc che servono una volta sola servono per uno scopo solo perché mette insieme cose diverse va bene magari in quel contesto mi serve però se dovessi fare ancora la versione ordinata per data mi servirà un altro metodo ancora che rifà di nuovo tutto da capo dentro il quale c'è la logica di stampa che ho già in un altro metodo quindi ho dei metodi che non sono puliti perché fanno cose diverse le altre soluzioni mi piacciono un pochino di più perché separano il concetto di ordina dal concetto di stampa e faccio uno, due, tre, cinque metodi quanti mi servono per i vari criteri di ordinamento e un metodo di stampa uno solo quindi aumento la riusabilità dei metodi perché ogni metodo ha uno scopo solo lo chiamo quando mi serve avere quella cosa lì e aumenta anche la comprensibilità dei metodi no? il metodo stampa stampa e non modifica nulla il metodo ordina ordina e l'altro invece crea una coppia la differenza tra il due e il tre qual è? dal punto di vista della separazione delle tematiche sono equivalenti nel senso che ho pensato faccio dei metodi per ordinare e poi il metodo di stampa ce l'ho già e quindi chiamerò il metodo stampa sul libretto che è già stato ordinato la differenza che è il metodo tre l'opzione tre è un'opzione che lavora sugli effetti collaterali no? chiamo un metodo che modifica il libretto attuale dopo che ho modificato questo libretto i nomi sono ordinati in modo diverso rispetto a prima però lo dice il nome scriverò libretto punto ordine per nome è chiaro questo facendo da quel momento in avanti i voti sono in ordine diverso è chiaro che se io avessi degli altri metodi delle altre parti del programma che stavano poveretti iterando magari su quei voti per qualche motivo sotto il naso gli cambi l'ordine degli elementi nella lista potrebbero non averti proprio in simpatia se gli fai un'operazione del genere no? però tutto sommato può funzionare l'opzione 2 invece ha ragione al contrario guarda senti tu mi passi un libretto ti garantisco che non te lo tocco quindi se tu mi chiedi un libretto ordinato te lo faccio ho imparato a farlo come copia e quindi uso quel metodo lì di copia del libretto poi ti ordino la copia e poi te la stampi cosa devo pagare? chiaramente l'opzione 2 sarà un pochino più lenta perché bisogna creare una nuova lista creare nuovi oggetti metterceli dentro e poi finalmente il sort lo devo fare comunque quindi sto creando degli oggetti che occupano tempo e occupano in parte spazio di cui in parte spazio perché durano il tempo che dura la stampa dopodiché quando esco dal metodo quegli oggetti della copia vengono dimenticati perché non ho più riferimenti quindi vanno in garbage collection più che altro richiede un po' di tempo in più se la struttura dati fosse molto grande fare una copia è un'operazione che no qui normalmente cerco di pensare due volte prima di fare devo dire che con la specifica che ho non ho nulla che mi permette di decidere fortemente in un verso oppure nell'altro l'importante è essere molto molto chiari come chiamare il metodo e come lo documentiamo per dire guarda questo metodo modifica l'ordine dei voti se non ti piace fallo lavorare su una copia cioè mi sta venendo in mente adesso che noi possiamo prendere l'opzione 3 e in più aggiungiamo gratis un metodo copy così se non te ne frega niente modificare l'ordine del libretto faccio libretto punto ordina per nome come si chiama per nome se invece ti da fastidio farò libretto punto copy fammi una copia uguale punto ordina per nome così quello di partenza ce l'ho in tonso allora così con un metodino copy che in realtà ci abbiamo già perché è l'altro del miglioramento abbiamo il meglio dei due mondi ok ci siamo convinti che questo va meglio è più versatile in realtà ci sarebbe anche un'altra opzione 2bis crea una copia shallow del libretto ricordate che abbiamo fatto prima abbiamo fatto copy della lista ma non abbiamo fatto la copy dei voti allora a me servirebbe una copia della lista da poter ordinare tanto i voti non li cambio mica quando lo stamparlo quindi il fatto che se faccio solo una copia della lista gli oggetti di voti siano condivisi con quelli di prima non li devo modificare quindi non mi fa nessun problema quindi in quel caso potrei avere un metodo che crea un nuovo libretto solamente condividendo gli oggetti vuoto però non mi piace tanto perché ho già un altro metodo che si chiama crea che in realtà fa una copia vera una copia profonda quindi non mescolerei le due filosofie nello stesso oggetto ok se diciamo che prima abbiamo un metodo che si chiamava crea migliorato allora ci siamo promessi a noi stessi che tutti i metodi che si chiamano crea creano una copia vera e propria e non una copia che a volte puoi usare anche per modificare i voti e un'altra invece che puoi usare solamente per modificare l'ordine senza cambiare il valore dei voti quindi come coerenza diciamo così del disegno complessivo allora per applicare il metodo 3 quindi che è quello che sembra che ci piaccia di più io vado a prendere il metodo crea migliorato e prima di tutto lo spesso in due faccio un def copy che fa questo queste prime tre righe e a questo punto crea migliorato ce l'ha più comoda perché posso fare direttamente che tutta questa cosa qua la sostituisco con self.copy e poi ovviamente devo fare le modifichine quindi anche qua anche il crea migliorato l'ho focalizzato meglio il metodo perché mi faccio una copia e modifico il contenuto della copia e restituisco la copia modificata quindi separo l'operazione di fare la copia dall'operazione di modificarla e quindi anche gli altri metodi che abbiamo chiamato crea ordinato per nome lo possiamo fare con un metodo def crea ordinato per nome per esame in realtà si chiama perché il campo si chiamava esame che cosa farà? farà nuovo uguale self.copy e poi ordina e poi alla fine return nuovo e ordina per nome lo possiamo scrivere direttamente qua oppure possiamo avere un metodo per esame che modifica l'oggetto stesso ordina self.voti per esame cioè ho questo metodo qui ordina per esame che modifica il libretto stesso ho un oggetto crea ordinato per esame che fa una copia del libretto e modifica la copia stessa ci può stare quindi in realtà crea ordinato per esame semplicemente ordina i voti basta fare il nuovo punto ordina per esame ho tre istruzioni fare una copia di alla copia di ordinarsi con un metodo che modifica l'oggetto stesso sta roba qui può essere abbiamo fatto come metodo il libretto ma in realtà queste due istruzioni potremmo anche usare direttamente nel programma principale non hanno nessuna conoscenza particolare degli attributi del libretto chiamano metodi che sono pronti per essere combinati tra di loro e quindi siamo arrivati qua all'ultima spiaggia cioè adesso veramente abbiamo l'oggetto ha un attributo vuoto di tipo lista e vogliamo ordinarlo quindi ci verrebbe da scrivere self punto underscore voti punto sort cosa dice per un attimo ho avuto vabbè adesso come fa sort a sapere che vogliamo ordinare per esame e non per date e non per voto è la domanda che dobbiamo farci però adesso questo ne parliamo tra un minuto teniamo separati i ragionamenti uno che metodi costruiamo quali metodi modificano l'oggetto quali metodi restituono una copia dobbiamo averlo chiaro in mente se questa copia viene una copia leggera una copia profonda dobbiamo deciderlo noi questo metodo ordina per esame modifica l'oggetto punto il metodo crea ordinato per esame crea una copia separata profonda dell'oggetto e ordina quella punto quindi è un oggetto separato da quello di prima è una domanda che dobbiamo sempre farci poi possiamo risponderci come vogliamo ma dobbiamo farcele adesso a livello implementativo quel sort lì come funziona allora io ho provato a mettere un mini mini ripasso adattato a quello che conosciamo sugli oggetti di come funziona il metodo sort in python ma non solo il metodo sort tutto il il problema dell'ordinamento del confronto quando abbiamo oggetti definiti da noi e non oggetti di libreria che hanno già un loro comportamento predefinito e in realtà lo sappiamo già nel senso che sappiamo che gli oggetti devono possono possono avere un metodo eq e un metodo lt eq sta per equal e lt sta per less than minore e qualora questi oggetti abbiano questi metodi possono essere usati con gli operatori predefiniti o con le funzioni predefinite quindi se un oggetto definisce il metodo eq allora questo metodo viene usato internamente tutte le volte che si chiama uguale o diverso quindi se il metodo definisce eq posso scrivere oggetto 1 uguale a oggetto 2 if oggetto 1 uguale a oggetto 2 se non definissi il metodo eq scrivere oggetto 1 uguale a oggetto 2 vi darebbe un errore di metodo non implementato sono io che decido se due oggetti sono confrontabili lo sanno quasi sempre e con che criterio quando se mi chiedo oggetto 1 uguale a oggetto 2 vado a verificare solo il nome il nome e il voto il nome e il voto e la data da solo python non può saperlo sono io che lo decido implementando il metodo eq ma questo non vale solo per l'uguale vale tutte le volte in cui python ha bisogno di riconoscere se un oggetto è quello che voglio quindi quando faccio un find quando faccio un index per trovare un elemento quando uso in if voto in libretto in scusate libretto punto voti ovviamente quando deve fare poi il controllo va a chiamare il metodo eq per dire senti ma è uguale a quello che cercavo questo quindi il metodo eq ti abilita il funzionamento dell'oggetto in tutti quei contesti in cui serve confrontare l'uguaglianza e così come il metodo eq less than ti abilita la possibilità di usare gli operatori di confronto minore maggiore maggiore uguale eccetera perché poi ovviamente less than da solo non basta serve minore e l'uguale per poter fare minore uguale per poter fare maggiore eccetera se hai quei due l'uguale e il minore riesci a fare tutti gli altri python riesce a fare tutti gli altri chiaramente se vuoi puoi anche definirti il gt greater than il ge greater equal sono quattro metodi alla fine ma i due minimi minimi sono l'equal e il less than se ci sono quei due python riesce a usarli per fare tutti gli altri operatori e ovviamente questi operatori di confronto vengono usati anche dalle funzioni sort sorted sort è un metodo della lista sorted è una funzione che prendono qualunque contenitore e restituisce una lista ordinata funzionano allo stesso modo internamente internamente vanno a chiamare tante volte il minore per decidere se gli elementi sono già nell'ordine giusto o vanno scambiati quindi affinché io possa scrivere qualcosa come quello che ho provato a scrivere se è il punto voti punto sort sort voti cos'è? è una lista ok la lista è il metodo sort sì ma per poter essere ordinata la lista deve contenere oggetti i quali implementino il metodo lt e in più questo metodo lt funzioni tra qualunque coppia di oggetti in questo caso abbiamo oggetti tutti del tipo voto quindi non è un problema in teoria potremmo avere una lista con oggetti di tipo diverso e quindi devono potersi confrontare anche tra di loro infatti se voi prendete una lista in cui mettete due o tre numeri due o tre stringhe non la potete ordinare se avete una lista di tutti i numeri sì una lista di tutti le stringhe sì ma l'operatore minore tra un numero e una stringa non è definito e quindi vi da errore quando provate a fare in questo caso abbiamo una lista di voti quindi ci basta che l'lt sia in grado di confrontare un oggetto vuoto con un altro oggetto vuoto ok questo è ciò che dobbiamo implementare il nostro oggetto vuoto adesso implementa il metodo lt no e quindi mi aspetto che se provo a eseguire questo codice una gentile pernacchia dovrebbe uscire quindi se aggiungiamo a test libretto un ordinato uguale lib punto crea ordinato per esame perché non mi dà errore caro ordine per esame andiamo a vedere cosa mi ha fatto aspetta andiamo a vedere come è definito vuoto se io vado avanti di un perché aspetta current file test libretto ok ok soggetto vuoto quindi mi fa vedere i metodi dunder ordinato vabbè allora evidentemente la data class l'ho definito per noi adesso lo vedremo tra un secondo ci sono dei casi ovviamente un caso di cui mi sono sbagliato io di sicuro in cui questi metodi sono definiti già automaticamente per noi quindi vediamo tre casi particolari o due un caso è quello di un oggetto completamente costruito da me class vuoto un caso degli oggetti predefiniti e un caso è quello delle data class che è quello in cui ricadiamo allora sui tipi predefiniti praticamente chiaramente i tipi primitivi cioè numeri stringhe sono confrontabili tra di loro numeri con numeri stringhe con stringhe i tipi predefiniti più complessi tipo la lista le tuple sono anch'essi confrontabili tra di loro e le stringhe che seguono lo stesso algoritmo e vengono confrontate da sinistra verso destra quindi una tupla e un'altra tupla per vedere se una è maggiore o minore dell'altra andrò a confrontare i primi elementi il primo elemento della prima e il primo elemento della seconda se il primo elemento della prima è minore allora la tupla viene considerata minore se il primo elemento della prima tupla è maggiore viene considerata maggiore se sono uguali vado a confrontare i secondi elementi e così via questo sia che siano tuple sia che siano list sia che siano stringhe vado a vedere il primo elemento lo confronto se questi sono uguali quindi eq passo all'elemento successivo appena una copia di elementi non è uguale allora so chi dei due vince questo richiede che ovviamente che tutti gli elementi a2 e a2 siano confrontabili quindi siano di oggetti che a loro volta implementano il minore cioè tupla 1 minore di tupla 2 si può fare se l'elemento 0 di tupla 1 e l'elemento 0 di tupla 2 sono confrontabili implementano il minore e poi l'elemento 1 di tupla 1 e l'elemento 1 di tupla 2 implementano il minore e così via altrimenti a un certo punto avremo errore questo è il meccanismo con cui noi possiamo creare una lista di liste e ordinare questa lista di liste una lista di tuple una lista di stringhe e è definito il concetto di ordinamento andando a prendere da sinistra verso destra gli elementi i valori degli elementi contenuti i dizionari non hanno questa proprietà due dizionari tra di loro si possono confrontare per uguaglianza e vengono considerati uguali se hanno le stesse chiavi e gli stessi valori ma non come minore o maggiore e quindi abbiamo già il primo anno lo facevamo quando hai una lista di dizionari non puoi fare semplicemente sort della lista di dizionari perché i dizionari tra di loro non sono confrontabili col minore e devi definire una funzione di ordinamento un criterio di ordinamento gli insiemi che è l'altro tipo predefinito sono ancora più strani anzi sono pericolosi perché loro implementano sia l'uguale due insiemi sono identici che contengono gli stessi elementi sia il minore o il minore uguale ma lo definiscono in senso di sottoinsieme quindi tra insiemi tra set non esiste un ordinamento totale ma un ordinamento parziale parlando in termini matematici un insieme è un sottoinsieme di un altro se il secondo contiene tutti gli elementi del primo se i due insiemi sono indipendenti quindi contengono un po' di elementi comuni un po' no nessuno dei due è minore dell'altro quindi se mi chiedo se A minore di B sarà falso ma anche B minore di A sarà falso in questo senso tra gli insiemi c'è un ordinamento parziale è possibile in alcuni casi che un insieme sia considerato minore di un altro ma non è vero che se A è minore di B se A non è minore di B allora deve essere B minore di A escludendo il caso dell'uguale non vale questo quindi bisogna fare attenzione perché quell'operatore è definito ma non dandoti un ordinamento totale poi alla fine il concetto di ordinamento non esiste più ecco per il data class visto che la data class ci costruisce automaticamente dei metodi dobbiamo istruirla a costruire i metodi che ci servono allora normalmente quando io definisco un oggetto con una data class viene definito il metodo equals sempre a meno che io chieda di non definirlo quindi quando io ho definito torniamo su vuoto l'ho definito come data class lassù in alto e qua nel nome della class nell'annotazione data class non ho specificato nulla se no potrei qua tra parentesi mettere delle proprietà degli attributi che descrivono come creare questa data class quali metodi creare c'è un attributo ad esempio equal uguale che per default vale vero vale true e quindi lui crea un metodo equal se io per qualche motivo non volessi creare il metodo equals su quell'oggetto vuoto magari perché me lo voglio implementare io e quindi non voglio che me lo credi da solo scriverò equal uguale false e allora quell'oggetto non avrà definito il metodo equals oppure lo definisco io è la stessa cosa per i metodi di confronto minore 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 uguale maggiore maggiore uguale dove però funziona al contrario per quello mi sono stupito prima che abbia funzionato per default non vengono creati e se li voglio creare devo scrivere order uguale true il valore di order per default è falso se non ho sbagliato a leggere ieri quindi se voglio che due oggetti siano confrontabili devo chiedere e li creo come data class è chiaro che se li creo come oggetti normali me lo implemento io il metodo appunto non c'è nessuno che fa nulla per me ma se chiedo a data class di implementarmi i metodi posso chiedergli anche di implementarmi i metodi di confronto come implementa questi metodi di confronto? andando a ragionare sui campi dichiarati in ordine di dichiarazione cioè va a confrontare se io dico senti i metodi mi ordinabili lui mi creerà i metodi di confronto quindi questo è un parametro delle data class non della class stessa e il metodo eq andrà prima a confrontare esame con esame se sono diversi allora capirà chi è maggiore chi è minore se sono uguali andrà a confrontare cfu con cfu se sono uguali andrà a controllare punteggio con punteggio e così via quindi come se un po' come fossero messi in una tupla o in una lista in ordine di apparizione quindi il primo attributo che scrivo è quello in base al quale verrà ordinato l'elemento e solo a parità del primo non si andranno a vedere gli altri questa è una logica non modificabile se non mi piace questa logica non gli faccio generare questo metodo e me lo implemento io tanto alla fine devo implementare l'etì cioè non è che devo fare due cose strane l'unica cosa che posso fare è scegliere che alcuni campi proprio non vengano considerati non vengono considerati né nell'equal né nel minore cioè quando definisco un campo posso dire guarda questo campo qua non confrontarlo ho messo un esempio supponiamo che gli esami li voglio confrontare sulla base di questi quattro campi il nome i crediti e il voto preso ma non ha senso confrontarli per data allora io posso quando definisco il campo data dire guarda questo campo data è un campo che ha la proprietà compare uguale a false allora lui creerà il metodo equals che considera uguale due esami se questi quattro campi sono uguali senza guardare il quinto è un metodo minore che confronta due voti confrontando prima l'esame a parità i crediti a parità il punteggio a parità la lode e basta e quindi se anche la lode è uguale considero uguali non minori e la data non andrà mai a controllare quindi io posso scegliere quali campi inserire quali meno negli operatori di confronto i campi e giustamente mi verrebbe da dire i campi che vengono usati per il confronto di uguaglianza sono gli stessi che vengono usati per il confronto di maggiore e minore altrimenti sarebbe abbastanza strano che tu confronti l'uguaglianza su certi campi e l'ordinamento su altri campi avresti poi delle contraddizioni per cui se A non è minore di B e B non è minore di A cioè se non è vero che A è minore di B e neanche che B è minore di A normalmente noi diciamo allora sono uguali però questa conseguenza logica vale solo se minore, maggiore o uguale operano sui stessi campi se vengono a prendere campi diversi ovviamente stiamo implementando un concetto di uguaglianza sbagliato e questo è il criterio di ordinamento innato all'interno dell'oggetto quello che in Java chiamavamo ordinamento naturale e avevamo quando una classe implementava comparable lo specificavamo così qua anziché implementare comparable definiamo LT e viene usato sempre poi in alcune operazioni particolarmente in cui è particolarmente importante specificare o personalizzare il criterio di ordinamento tipo il sort ma anche il max e il min e esiste un parametro che si chiama key che definisce qual è il criterio o meglio la chiave di ordinamento di questa specifica operazione quindi quando io in operazione sort specifico la chiave key uguale torniamo qua a libretto a un certo punto chiamiamola sort laggiù gli sto dicendo guarda che quando vuoi fare un confronto non usare LT non usare il minore usa la funzione che ti dico io qua ok? quindi capendo adesso un po' meglio i metodi d'andar capiamo anche meglio come funziona key cioè lui normalmente ha due oggetti li deve confrontare e chiamerà oggetto 1 punto LT oggetto 2 vero o falso cioè anzi minore no minore è vero o falso mentre invece se gli specifico il parametro key lui dirà va bene tutte le volte che voglio fare un confronto anziché chiamare l'LT dell'oggetto chiamerò questa funzione che ti ho passato come parametro quindi questo è un parametro il cui valore è una funzione è una funzione che può essere chiamata che verrà chiamata dall'interno di sorte questo è una piccola superficie di programmazione funzionale di python che si può fare ma non approfondiremo particolarmente in cui creiamo oggetti tipo funzione e passiamo in giro questi oggetti come se fossero oggetti tipo stringa si può fare no? a noi serve soprattutto in questo contesto qua ma devo dire che anche data class è una funzione che prende una classe e restituisce una classe quindi sono funzioni che a loro volta modificano altre funzioni o altre classi tutto un livello di programmazione in più no? ma limitiamoci alle cose semplici allora io se voglio ordinare per nome io o definisco quella data class vuoto in modo che vada a implementare l'equal e il minore solo per nome e allora sort lavorerà su quel criterio naturale però poi è limitativo perché poi devo ordinare per punteggio e cosa faccio? la classe è quella e posso definire un solo criterio DLT e il criterio di ordinamento ad esempio per punteggio non avrebbe senso che fosse implementato nell'equals cioè non ha senso dire due esami li considero uguali se hanno lo stesso voto se hanno lo stesso punteggio no perché punteggio non è un campo univoco quindi non puoi dire sono uguali se entrambi 24 no è un criterio di ordinamento sì ma non è un criterio di identità tra gli oggetti voto quindi ha senso separare la chiave di ordinamento rispetto a all'ordinamento naturale dell'oggetto stesso allora qui devo dirgli il nome di una funzione che dati due oggetti voto restituisce il valore del confronto tra i campi esame dei due oggetti stessi quindi una funzione fatemela scrivere qui def confronta campi esame la facciamo molto privata e cosa fa? restituisce il confronto tra i due campi esame quindi self self punto add no scusatemi cancellate tutto non ho bisogno di una funzione è una funzione che estrai il campo esame mi sono confuso ma è una buona occasione perché mi sono confuso perché in java quando definisci un comparatore devi definire una funzione che confronta due oggetti in python invece quando definisci queste cose quella chiave devi definire una funzione che stragga un valore dal singolo oggetto e poi ci pensa python a confrontare di loro questi valori quindi faccio una proiezione dell'oggetto in un tipo di dato diverso il quale viene usato come ordinamento non è stessa cosa lt confronta due oggetti e mi dice è maggiore o minore la chiave invece dato un oggetto estrae un valore e quel valore viene usato per quei confronti ok quindi restituisce a un parametro solo cioè l'oggetto stesso e restituisce eh pardon qui siamo dentro devo metterlo a vuoto in questo campo vabbè facciamo così scudatemi di solito non si fa questo quindi per quello mi sto incasinando definiamo una una funzione generale poi lo facciamo nel modo giusto def estrai esame campo esame di un vuoto e questo fa semplicemente il return di punto esame implementarlo come metodo è troppo un casino cioè se io ho una funzione che dato un oggetto voto estrai una stringa in questo caso che è il nome dell'esame quando voglio ordinare una lista di voti per nome di esame io posso dire alla funzione sorte senti ogni volta che prendi un oggetto prima di confrontarlo chiama questa funzione e usa il valore di ritorno di questa funzione quindi estrai campo esame è il nome di una funzione torno giù che posso indicare come chiave di ordinamento il nome di una funzione vedete che pur essendo una funzione io non sto mettendo le parentesi tonde qua non sto chiamando questa funzione non mi interessa adesso qua alla riga 145 qual è il valore di ritorno di questa funzione mi interessa dire senti caro sort quando avrai bisogno di confrontare chiama questa e poi fai il confronto ai risultati quindi lui dentro farà che cosa estrai campo esame di voto 1 minore estrai campo esame di voto 2 non voto 1 minore di voto 2 estrai campo esame tira fuori una stringa e quindi confronterà le due stringhe una funzione che prende l'oggetto e restituisce un valore su cui fare il confronto in questo caso è una funzione molto semplice che prende un oggetto e restituisce il valore di un attributo di quell'oggetto ma poiché è una cosa molto frequente dover ordinare degli oggetti sulla base del valore di un attributo dell'oggetto stesso nella libreria standard c'è già una funzione fatta così che dato un oggetto mi estrae un campo che si chiama attribute getter nel modulo operator quindi la funzione che abbiamo scritto noi prima in realtà possiamo anche evitare di scrivercela per quello che ho fatto qualche pastizio di non scriverla perché normalmente non si scrive non serve mi faccio costruire una funzione si fatta dal metodo attribute getter del modulo operator e gli dico guarda come chiave costruisci una funzione che dato un oggetto estragga un attributo attribute getter che si chiama col nome che ho specificato quindi quello che si scrive normalmente è self.voti .sort q uguale operator .attribute getter e il nome dell'attributo in questo caso esatto queste due cose sono la stessa cosa in entrambi i casi l'argomento di chi è una funzione funzione la quale prende un oggetto voto la quale restituisce una stringa che sia esattamente il campo esame di quell'oggetto nel primo caso è una funzione che mi sono fatto io di una riga ho dovuto mettere da qualche parte e dargli un nome nel secondo caso è una funzione anonima che non ha un nome che ho chiesto al modulo operator di costruire per me attribute getter estrae un attributo di un oggetto che è imparentata con un'altra funzione che si chiama item getter che invece l'avevamo già vista al primo anno che andava a estrarre un elemento di un elenco quindi lo usavamo per estrarre un campo di una lista per ordine 0, 1, 2, 3 o di una tupla oppure una chiave di un dizionario item getter è la parentesi quadra è una funzione che fa valore parentesi quadra chiave o numero nel caso di un dizionario dentro la parentesi quadra c'è la chiave nel caso di una lista dentro la parentesi quadra c'è un numero quindi item getter ti fa un return ti costruisce una funzione che di fatto fa oggetto parentesi quadra il valore che gli dici altro getter beh gli attributi degli oggetti non si accedono con la parentesi quadra ma si accedono col punto e quindi altro book getter fa quello restituisce qualcosa che faccia oggetto punto esame oggetto punto nome dell'attributo cambia solo quello è una funzione di utilità che ti costruisce delle funzioni di una riga return qualcosa return self punto oppure self aperta quadra quindi se la nostra lista contiene liste le vogliamo ordinare sulla bar o tuple le vogliamo ordinare sulla bar di uno dei suoi campi item getter col nome del campo col numero del campo se la nostra lista contiene dizionari possiamo farci creare la funzione di ordinamento chiamando item getter col nome del campo per ordinare se invece contiene oggetti la piccola attenzione che è un attribute getter non è un item getter perché non sto andando a prendere un item in un dizionario ma un attributo in un oggetto quindi con chi la funzione minore viene applicata non agli oggetti bensì al risultato della funzione di ordinamento oppure c'è anche l'altro modo e poi vi lascio un attimo respirare di costruire una funzione in line direttamente qua la funzione che abbiamo definito noi prima estrai campo esame è una funzione che ho perso qua che riceve un argomento calcola un'espressione in questo caso banale e restituisce il valore di quell'espressione lì gli abbiamo dovuto dare un nome ma anche se in realtà ci serve in una volta sola in un punto solo allora c'è la possibilità a livello proprio di sintassi semplificata di dire senti costruiamo una funzione senza dargli un nome e ti dico direttamente quale valore deve ritornare le funzioni che siano fatte così che abbiano solo un ritorno di un'espressione si possono evitare di definire ma se lo volete la potete definire evitare di definire usando il costrutto lambda non apriamo discussioni di due ore su perché si chiama lambda perché va a pescare in un ramo della matematica ma lambda è leggiamolo come creami una funzione qua che prenda un argomento v e lo istituisca v punto esame la sintassi molto semplificata lambda argomento due punti valore di ritorno poi prendete la funzione togliete def togliete return rimane questo togliete def togliete il nome della funzione questo rimane l'argomento due punti return togliete anche return rimane l'espressione quindi abbiamo sfoltito tutta la sintassi che non ci serve ma concettualmente è la stessa cosa allora qua possiamo andare a scrivere in line l'espressione sulla base della quale vogliamo ordinare qualora quando è che ci serve ma ci serve essenzialmente quando il valore l'ordinare non è già tale e quale un attributo dell'oggetto allora nel caso l'ordinamento per nome perché devo scrivere self.etame v.esame ho già l'attributo getter che fa esattamente quello nel caso del punteggio essendoci la lode è un pochino più complicato quindi magari non ho un attributo non posso ottenere solo la sua base di punteggio perché io voglio prima le lodi e poi quelli senza lode quindi è già una combinazione di due attributi e quindi in qualche modo dovrò giocarci allora questo era se vogliamo un ripasso barra approfondimento su come funzionano gli ordinamenti che poi ci servono in tutti i momenti sort si applica a qualunque lista non si applica le tuple perché? perché le tuple sono immutabili e quindi non le posso ordinare sorted come funzione si applica a qualunque collection perché in ogni caso se ne fa una coppia e restituisce una lista il criterio di ordinamento è quello basato sul campo minore che è già predefinito essenzialmente sulle liste e sulle tuple e non sui dizionari può essere definito sulle data class se vogliamo costruirlo oppure ce lo personalizziamo ogni volta che vogliamo ordinare qualche cosa con la key che riceve una funzione qualora questa funzione debba semplicemente estrarre un attributo la possiamo far creare così ma nel caso più generale possiamo o definirci una funzione vera con un nome da qualche parte del codice oppure se questa funzione è veramente di una riga sola possiamo anche scriverla in line e anche se vogliamo più leggibile perché per sapere sulla base di che cosa estraggo qua dovrei andare a vedere come è implementata la funzione mentre qui in questi due casi è esplicito che cosa sto facendo ordine sulla base di quel campo non devo andare a vedere altrove che calcolo viene fatto quindi per questo che è la prima soluzione di fatto al di là delle pigrisse definire una funzione in più ma rende meno leggibile il codice in quel punto ok ho sforato un pochino la prima ora mi scuro ma almeno abbiamo chiuso questo ragionamento ovviamente dobbiamo poi portarci a casa il punto dell'esercizio quindi dobbiamo poi implementarlo ma avendo capito tutto dopo un po' di ossigeno sarà facile farlo quindi ci rivediamo al 10.30 grazie a tutti